Abbiamo sostanzialmente istituzionalizzato un appuntamento che abbiamo tenuto l'anno scorso per la prima volta e cioè aspettando la liberazione. L'anno scorso erano 70 anni dal 25 di aprile, quest'anno abbiamo intenzione di ripeterlo e per questo diamo appuntamento alla città alle 22 e 30 del giorno del 24 aprile, il giorno precedente e aspetteremo una mezzanotte tutti insieme parlando di liberazione. Per quello che riguarda le iniziative che fa Ampi Pescara in partecipazione con il Comune un ricchissimo calendario che addirittura prenderà 4 giorni con spettacoli teatrali, con la proiezione di un bellissimo film invito tutti quanti i cittadini a venire a vederlo domenica sera, proietteremo nella sala del Consiglio Comunale L'Uomo che Verrà, che è un bellissimo film di Giorgio Diritti sulle vicende di Marzabotte e quindi uno degli esempi della tragedia del nazifascismo in Italia. E poi il 25 per esempio con una motivazione molto forte Ampi Pescara darà una targa alla bandiera nombrina come emblema dell'Italia che vuole resistere a tante cose in questa regione ma soprattutto come esempio per il resto del paese.